Anche quest'anno riparte l'operazione Mare Sicuro che vede ogni estate da oltre 30 anni la guardia costera al fianco dei bagnanti, dei diportisti e di tutti i cittadini per contribuire a una ottimale fruizione delle coste e delle spiagge in tutta sicurezza e nel pieno rispetto dell'ambiente marino e costiero. Fino al 18 settembre i mezzi navali, gli uomini e le donne della direzione marittima di Olbia vigileranno lungo gli oltre 1000 km di costa del nord Sardegna, dalla costa di Alghero fino all'interno Golfo di Orosei, vigilando in mare, sulle spiagge e nelle zone balneari a garanzia del corretto svolgimento delle attività turistico balneari e pronti a intervenire in caso di emergenza, con la principale finalità di prevenire gli incidenti in mare e fornire le migliori condizioni per una tranquilla e piacevole vacanza. Verrà garantita costante e mirata attenzione alla scrupolosa osservazione delle disposizioni inerenti alla sicurezza della navigazione e della balneazione richiamate nelle vigenti ordinanze di sicurezza balneale che riguardano i concessionari, i servizi di salvamento e tutte le attività turistico balneari che si intensificano durante il periodo estivo in ragione del notevole flusso turistico che caratterizza le nostre coste e che per la corrente stagione estiva è già particolarmente intenso da settimane. Per le emergenze in mare è sempre attivo il numero blu 1530 attraverso il quale le chiamate di soccorso possono essere valorizzate con una pronta risposta attraverso l'impiego della componente aeronavale della Guardia Costiera.